Non c'è nessuna relazione tra ciò che succederà oggi al Presidente Berlusconi e al Governo. I governi cadono se non c'è l'azione, se non fanno le cose che dicono. Noi siamo rimasti al discorso del Presidente Letta quando si è insidiato il suo programma di governo. Per cui non c'è assoluta relazione tra ciò che succede oggi al Presidente Berlusconi, quello che potrà succedere, e l'azione di questo Governo. Invece per quel che riguarda voi come parlamentari dovessero rigettare il legittimo impedimento? Siete pronti alle dimissioni come dice Gasparri? No, io le dico che la giustizia non c'entra con questo. Può centrare l'ingiustizia, ma la giustizia non c'entra né col Governo né con il Parlamento. L'ingiustizia può centrare molto. Quindi giustizia se non viene interdetto? Siete andate, va bene.